A parte Mianovic, il suo tiro, e la rete! Palla sul sinistro, Lavarelli, la parata di Mancini, Salas, rete! Ravalli, palla al centro, Neffa, rete! Palla tagliata sul secondo palo, Néstor! Sensini! Sinisa! Posizione regolare adesso, palla per lui, Ravanelli, gira Fabrizio! Con una possibilità per Ravanelli, c'è Salas nello spazio, pallone per lui, il Metador! Prova ad andare, Inzaghi, dalla parte opposta c'è Consei Sao, Inzaghi tiene palla, ancora Inzaghi, cerca a destra e si vede! Riesce il pallone al centro, Neffa, rete! Cargo su Ravanelli, c'è lunga però il pallone, Ravanelli, anzi Roverone, bello l'assist per Salas, uscita di Curci, Salas, rete! Prima Ravanelli, un po' in ritardo, Balleri su, Nnedi vede che può prendere la mira, caricare il destro e fare c'è... ...tonico, intanto Pancaro, che insiste con la sua spinta e poi il legno, gara, il gol è l'alto! ...lontano con Nesi, quindi Verona, continua lo serio, stacco, vicia! ...dentro, per giù la Zaghi, per un giro, 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 per un giro! ...nanziale, mette al centro, Inzaghi, bello l'1-2, il pallone in rete, la palla in rete, Neffa, Neffa, Neffa... ...quindi possiamo segnare a lui il gol, parte Verona, il tiro a tirare, la rete, la rete della Lazio! Trova a mettere dentro, Simeone, Diego, Pablo! Salas, la finta, Neffa, Deinaria, e la destra di Neffa, vediamo che Trapattoni, forse non era molto d'accordo, Mielovic per Bocci, c'è il gol! Va il cerbo, con il sinistro, e questa volta non ci arriva Tol! E questa volta la Lazio rie... ...concendo 1-0, con il gol di Simeone, Verona, su punizione... Eccolo in aria, Pancaro, pallone insidioso, la rete, la rete di Diego... Trova a chiuderlo Maldonado, il cross di Pancaro, Benussi, non trova il pallone, Inzaghi, rete! E sarà Conceisau a lasciare il posto a Lombardo, Massimo... Faccio d'angolo di Mihailovic, pallone insidioso, la rete, autogol! Mancini in posizione regolare, attende l'inserimento di qualche compagno per il cross, e c'è il gol di Conceisau! Verona preferisce scodellare dentro, rete! Molto che probabilmente tra poco entrerà in campo... ...da tutto il cross di Pancaro, si lascia! ...dischetto, attenzione, Simone Inzaghi, il tiro, la rete! Parte Verona, il tiro e la rete! 2-0! Parte di testa rete! Simeone! Simeone! Esplode la gioia dell'Olimpico, il Perugia è passato in vantaggio, dove è arrivato la notizia del vantaggio del Perugia! Chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo... È finita! È finita! La Lazio è campione d'Italia! Sweet dreams of rhythm and dancin', sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taken over, sweet dreams of dancin' through the night... I wanna get into motion, a better devotion, so I can make it through the night... So the music is playin', you know what I'm sayin', now everything will be alright... Sweet dreams of rhythm and dancin', sweet dreams of passion through the night... Sweet dreams are taken over, sweet dreams of dancin' through the night... Oh 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 oh... Oh la oh la oh eh... Oh la oh la eh... Oh la oh la eh... Oh la oh la eh... WHEREVER MISSED CREATION! A better sensation That will lead you through the night When your body is moving The music is grooving I wanna take you home tonight Sweet dreams of rhythm and dancing Sweet dreams of passion Through the night Sweet dreams are taken over Sweet dreams of dancing Through the night Sweet dreams of passion